Per la prima volta in Cina e nel mondo un insediamento urbano di nuova generazione. Al Yuzhou partono infatti i lavori del master plan di Stefano Boeri Architetti per una città che combatte l'inquinamento atmosferico. La città foresta sarà terminata entro il 2020. Ci saranno uffici, case, alberghi, ospedali, scuole interamente ricoperti di alberi e piante. Una volta ultimata, la nuova città di 30.000 abitanti sarà in grado ogni anno di assorbire circa 10.000 tonnellate di CO2 e 57 tonnellate di polveri sottili e di produrre circa 900 tonnellate di ossigeno. L'Yuzhou Forest City sarà costruita a nord di L'Yuzhou nella provincia meridionale montuosa dello Guangxi in un'area di circa 175 ettari lungo il fiume L'Yuyang. La nuova città verde, che sarà totalmente cablata, sarà collegata alla città di L'Yuzhou da una linea ferroviaria veloce utilizzata da automobili a motore elettrico e sarà destinata ad ospitare zone residenziali di diversa natura e spazi commerciali e ricettivi oltre a due scuole e un ospedale.